Ben ritrovati ragazzi, sono oltremodo contento di tornare a lavorare con voi, immagino che vi manchi tantissimo e pertanto iniziamo subito con una bellissima lezione di storia. Le lezioni di storia che andrò a caricare su questo canale in questo periodo riguarderanno appunto il lasso di tempo che va tra la fine del 1600, che abbiamo trattato in classe, e la rivoluzione francese, che è del 1789, quello che viene considerato il secolo breve del 1700. Questo periodo viene associato tradizionalmente a un movimento culturale che porta il nome di Illuminismo, infatti anche il vostro libro, stiamo parlando del capitolo 7 da pagina 160, intitola così l'Unità. Che cos'è l'Illuminismo? L'Illuminismo è un nuovo modo di pensare al sapere, a tutte le scienze, non solo alle scienze esatte, cioè la matematica, la geometria o l'astronomia, ma anche le scienze umane, come per esempio può essere le scienze politiche, le scienze sociali o le scienze economiche, un nuovo modo di vedere al sapere che deriva dal metodo sperimentale scientifico dei grandi pensatori del 600, cioè afferma che la ragione sia in grado di illuminare l'oscurità entro il quale l'uomo è immerso. Questo discorso è un discorso molto molto delicato, perché? Prima di tutto perché fino ad allora la verità era esclusivamente donata all'uomo tramite il libro sacro, cioè tramite la Bibbia. Stiamo parlando come al solito di Europa, Europa occidentale nella patispecie, abbiamo già iniziato ad introdurre un po' l'Europa orientale, abbiamo visto la Russia, la Russia, però comunque siamo sempre collegati al nostro mondo europeo. Per l'appunto, questo è un discorso molto delicato in Europa, perché avevamo visto che nel 600 si erano, il 600 era stato famoso per tutte quelle guerre religiose che avevano interessato il continente, in realtà erano partite già dal 500 quelle guerre dalla riforma di Luther, da quando appese le tesi a Wittenberg, ma nel corso del 600 si erano protratte in maniera incredibile fino a giungere la guerra dei 30 anni, conclusesi nel 47, nel 1647, con la pace di Westfalia. Ecco, la chiesa in questo periodo aveva perso tantissimo del suo potere politico, benché rimanesse uno stato estremamente ricco e benché Roma fosse in un periodo di estremo splendore, quello che viene considerato il barocco, il potere politico europeo della chiesa era in deciso calo. La questione fondamentale era che lo studio fino ad allora, cioè le università, erano state sempre in mano agli uomini di chiesa, in particolare ai domenicani, ma comunque erano gestite unicamente da chierici, cioè da quelli che si erano fatti la chierica, quelli che avevano preso i voti minori, quindi si studiava in convento. In questo periodo iniziano invece, gli stati iniziano a prendere più potere rispetto alla chiesa. Ricordiamoci sempre che quando parliamo di stati, non stiamo parlando degli stati nazionali, gli stati nazionali sono tutti dopo, nascono tutti dopo la rivoluzione francese, cioè il 1789. Qua parliamo di stati come entità governati da un re di norma o al massimo da un re e da determinate camere parlamentari, come per esempio in Inghilterra. Comunque questi stati, proprio a causa di questa perdita del potere politico della chiesa, acquistano sempre più potere. E hanno sostanzialmente due grandi, prendono nella chiesa due grandi poteri. Il primo è sostanzialmente il potere della conoscenza. Le scuole, non dico che si emancipino, però hanno sempre meno legame rispetto alle istituzioni clericali. Questo permette una certa libertà negli studi. Prendiamo sempre le parole con le pinze, ragazzi siamo nel 1700, non siamo nel 1900, nel 2000, quindi non posso studiare sostanzialmente cosa voglio. Lo studio ancora tutto in latino, però inizia una fase in cui si può iniziare a studiare qualcosa di, per esempio, scientifico, qualcosa di politico, qualcosa di economico, scienze che chiaramente tradizionalmente non sono legate allo studio delle sacre scritture o dei grandi classici. In più, gli stati riescono a livello economico anche e infrastrutturale a togliere alla chiesa tutta una serie di possedimenti, perché la chiesa aveva perso tantissimo del suo potere politico, ma quasi niente del suo potere economico, cioè era uno stato estremamente ricco, dislocato su tutta l'Europa tramite conventi, monasteri, chiese e quant'altro, ma non aveva più la capacità di gestire tutto quanto. Abbiamo visto, per esempio, i papi in questo periodo sono romani, questo vuol dire che hanno molto cara la faccenda italica e la situazione politica italica, non si curano molto dell'Europa, soprattutto dell'Europa del Nord, quella che ha attraversato la riforma protestante o la riforma calvinista e tutto il fermento religioso, la chiesa anglicana, tutto il fermento religioso del 1600. In questi stati i poteri, senza mentire, riescono a strappare alla chiesa, soprattutto all'ordine dei gesuiti, che vi ricordate era quello che aveva gestito l'inquisizione, che si era diventato estremamente ricco nel corso del 1600, riescono a strappare alla chiesa tutta una serie di averi economici, pecuniari, di solito non si parla proprio di oro o di ricchezza. In più, siccome il controllo statale della chiesa era venuto meno, nascono delle nuove sovrastrutture che gestiscono l'insegnamento, come vi dicevo prima. L'insegnamento non viene più gestito unicamente dalla chiesa, ma viene gestito anche da altri organi, organi che diventeranno statali solo verso la fine del secolo, dopo la rivoluzione. Se consideriamo per esempio l'università di Torino, chiaramente evoluta dai Savoia, portata avanti con un progetto di Maffei, vedrà la luce proprio alla fine del 1700. Sarà una delle prime università italiane completamente statali, cioè completamente separate dalla chiesa. Ricordiamoci che l'università era già dall'undicesimo secolo, cioè da metà dell'anno 1000 che c'erano in Italia, soprattutto quella di Bologna, il Padova, il Siena, insomma tutta una serie di università più antiche gestite in conventi da uomini di chiesa. Ecco, tutto questo pervento permette allo studio, in generale, di emanciparsi dalla religione. Lo studio inizia a diventare libero e questo determina il fatto che tutta una serie di teorie, soprattutto in campo politico, sociale ed economico, vengano appunto teorizzate da tutta una serie di grandissimi studiosi che voi avete sostanzialmente, di cui avete qualche esempio a pagina 161, 162, 163, che diranno delle cose molto importanti. Per esempio ci saranno Montesquieu, Voltaire, Rousseau, soprattutto, sentite, sono quasi tutti francesi, non a caso la rivoluzione c'è stata in Francia. Tutti questi grandi studiosi diranno per esempio che gli uomini hanno il diritto all'uguaglianza. Sembra una cosa estremamente fondamentale e naturale per noi uomini del 2020, ma nel 1700 dire che tutti gli uomini nascono liberi e uguali non è una cosa affatto scontata. Ricordate che c'è lo schiavismo, ricordate che ci sono per esempio tutti i nativi americani dell'Ovest ancora da conquistare. Ricordate che ci sono tutti i neri che subiscono la tratta degli schiavi. Ecco, per i grandi illuminati, per i grandi illuministi, scusate, queste persone sono da considerarsi uguali a un qualsiasi europeo, un qualsiasi italiano, spagnolo, francese. Queste teorie sono di una portata, oltre che rivoluzionaria, come succederà effettivamente, di una portata mondiale, cioè lo stesso Rousseau con il mito del buon selvaggio, cioè dell'uomo che non ha conosciuto la cultura, quindi è un uomo sostanzialmente buono, non è ancora stato infettato dal male della cultura. Queste teorie verranno portate avanti per centinaia e centinaia di anni, ancora oggi se ne parla, se pensate per esempio a come hanno ribaltato completamente questo discorso i nazisti, come abbiamo visto con la deportazione di interi ceppi razziali, oppure come verrà portata avanti negli ultimi anni 90 del Novecento. Comunque, in un modo o nell'altro, questi grandissimi studiosi hanno il merito di innovare lo studio, il sapere. Lo studio diventa qualcosa di incredibilmente importante, questi due uomini qua sono uomini che effettivamente dimostravano un sapere ampissimo, conoscevano quasi tutte le materie, quasi tutti e quasi tutte le materie, ed è in questo periodo, come abbiamo visto in classe, se vi ricordate, che nasce il primo progetto di un'enciclopedia, un progetto realizzato da Diderot e da Lambert, sempre altri due francesi, come sentite. Ecco, questo era un po' per delineare il panorama, il contesto storico entro cui ci muoveremo in queste lezioni che faremo online. Nell'unità di cui vi parlavo prima, le pagine che mi interessa che leggiate sono solo due, sostanzialmente. Sono la pagina 160 e la pagina 167, perché tutto questo discorso che vi ho fatto, questo discorso culturale che vi ho fatto, porterà a un aspetto politico molto molto interessante, il cosiddetto despotismo o dispotismo illuminato. Che cos'è? I grandi monarchi europei si accorgono nel 1700 che il sistema di monarchia assoluta sostanzialmente non riesce a mantenere in funzione positiva determinati aspetti dello Stato. Cosa vuol dire? se l'Europa, dopo la pace di Vesfalia, dice che non ci deve essere una monarchia più importante dell'altra, ma è piena di monarchie assolute, cioè di stati entro il quale il monarca, il re, il regnante è completamente privo di tutti gli obblighi morali o civili verso i propri sudditi. Questo sistema genera la guerra. Cioè si accorgono che dal 1650 al 1700 questo sistema di monarchia assoluta europea non ha portato nient'altro che a guerra. E questa guerra, appunto, hanno impoverito tantissimo gli stati. Gli stati riversano in condizioni in condizioni estremamente negative. Soprattutto chiaramente la popolazione, perché i regnanti, lo sappiamo, hanno delle riserve economiche infinite sostanzialmente. In questo periodo, se pensiamo per esempio alla Spagna, gran parte degli introiti della Spagna deriva dall'America, deriva dal nuovo continente, o i portoghesi, o gli olandesi, appunto, tutti i sistemi coloniali, gli inglesi, in questo periodo conquisteranno l'India, e così via. Gli stati, se non avessero avuto queste entrate esterne al continente europeo, sarebbero sicuramente collassati a livello economico, perché sarebbero indebitati tantissimo per fronteggiare le spese di guerra. A questo punto, nel 1700, all'inizio del 1700, la situazione è proprio insostenibile da parte dei regnanti. Si accorgono che c'è bisogno di fare qualche riforma, perché sennò lo Stato continua ad impoverirsi. Quindi, se da una parte abbiamo detto che c'è un grandissimo fervore culturale che porta allo studio delle scienze politiche, economiche e sociali, e dall'altra parte c'è un regnante, un despota, appunto, che ha bisogno effettivo di riforme per portare davanti lo Stato per non farlo collassare a livello economico, c'è una categoria di persone, appunto, tra i regnanti, che decide di applicare questo nuovo sapere. Cosa vuol dire? Vuol dire che decide di far proprie le teorie nuove dei grandi pensatori del 1700 e di applicare all'interno del suo Stato, principalmente perché porteranno ricchezza al suo Stato. Ma effettivamente, per alcuni regnanti, soprattutto questo discorso, e quei due che tratteremo, che sono Maria Teresa d'Austria e Leopoldo di Lorena, saranno effettivi. Questi regnanti credevano davvero che era il nuovo modo di governare i sudditi. Ecco, abbiamo parlato, appunto, di Maria Teresa d'Austria. Sappiamo benissimo che l'impero rimane austriaco, l'impero è sempre stato, gli Asburgo, in questo periodo sono la casata che sostanzialmente è imbischiata in tutte le corti d'Europa. Ecco, l'Austria in questo periodo affronta questa crisi di inizio del 1700 in una maniera estremamente positiva. Cioè, decide di utilizzare queste nuove teorie economiche, sociali e politiche. Molto bene, direi che per ora è tutto, questa lezione la concludiamo qua. Fatemi sapere se avete qualsiasi problema riguardo alla fruizione di questo canale. Nel prossimo video continueremo a parlare, appunto, di Maria Teresa d'Austria, che è un personaggio incredibile. Non mi rimane che salutarvi e al prossimo video, ragazzi.